85.000 km di tastra e cambiamo i dischi, i fastighi già cambiate, sul canale c'è il video. arriva un giocattolo nuovo, magari video un po' diversi neanche arrivano, questi rischi Brembo, una coppia, previsto in internet, se non ho sbagliato il codice dovrebbero essere giusti, 85 euro la coppia dei dischi e ovviamente la misura dei dischi era sbagliata, il sito autodoc.it non dico l'opinione mia ma restituire quei dischi ce ne sono voluti due mesi per avere in reso, nel sito ti fanno pagare 4 euro in più se vuoi reso garantito, quindi ti organizzano loro, già la spedizione se c'è problemi ti danno 200 giorni, 150 a 200 giorni di tempo per restituire tutto bello finché tutto funziona, se qualcosa va storto due mesi per riavere questi dovrebbero essere veri giusti. e e e e e e e e Piazza. il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Ok. A presto. Grazie per la visione! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.